Vai chat, pronostici, votate, vinceremo sì no, vai Allora siamo in attacco su skyscraper Ok, vediamo contro e con chi siamo Contro full stack Raga, skyscraper in attacco contro full stack Con solo un duo più con noi è un problema Speriamo che siano scarsi quelli in gruppo da 5 contro Perché sennò sono schiaffi Sì, 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 infatti raga, cioè devono agire questi Cioè non possono far fita di dormire tutto il tempo Devono agire Devono far qualcosa Non possono stare lì e non fare niente Chi prendiamo Ragazzi, i twitch E gli mettiamo Il reflex È quel momento È quella giocata pazza Paresemente è quella giocata pazza Ciao Zero, come va? Alla fine ho preso il diavolo Ho preso più il caosce Ah, faccio Voglio farmi dire il gioco Ah sì, cioè se non cominciano a fare qualcosa, sì Cioè è ingiocabile Ragazzi, è normale che ogni volta che gioco trovo dei cheater Dai Già che devo giocare contro full stack Yeah Pidone, grazie mille per la sub col prime Benvenuto, punto esclamativo, vantaggi in chat Per sapere dei vantaggi Grazie mille 5 stack, non lo so Deve essere davvero male Sì, speriamo Ok Allora, vabbiamo Allora, vabbiamo Allora, vabbiamo Allora, vabbiamo Allora, vabbiamo In prevenzione abbiamo sparato quel muro Ce n'è uno a sinistra? Può essere? Può essere che ce ne sta uno a sinistra Partiamo benissimo col bot Partiamo palesamente col bot Ragazzi, entrare qua Molto rischio Io non ci voglio andare Voglio andare di qui Ring 5 Eh, ho tozio Dragon Ti butta Ragazzi, sei messi di merda Ring 5 Può andare per la finestra Ho ho tozio Ah, ho problemo um On sight on sight Raga ma che vuoi fare Dai 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 Come hai fatto a non ucciderlo scusami Dai Dio buono Mio dio ragazzi cosa stavo facendo Cosa stavo facendo Ah mio dio Non ci credo chat Assurdo Assurdo raga Ma come si fa Cioè era perfetto Era il round de cristo L'avevamo proprio clacciata Non ha fatto niente Questo con noi Peccato Mi è apparso un tiktok Di rainbow six Dove nella modalità Halloween Tipo se rompevi Apparivano 50 milioni Di account creati E tutti Tipo nei commenti Insultarli What the fuck Let's go Ok Finciamo sta partita Va Allora quello ha fatto Quattro kill Vabbè che la mia E quello di quello Era una Tipo free kill Troppo Dai Allora Ok Noi comunque Ci siamo andati bene Non abbiamo usato twitch Ma Non l'abbiamo usata Ragazzi Perché Abbiamo avuto problemi Di Eh vabbè Però muoiono subito Tu coglioni Un po' palloso Sta cosa Va bene tutto Però Allora Una camera Hot Cacca non ping Ambar Era qua Ragazzi Che devo fare Che devo fare Cioè Chat Dittemelo Cioè Illuminate il mio cammino Ditemi che devo fare Che non so Io posso provare Aspettare che mi puoi uscire Ma Ma questi sono da 5 Questo è un team da 5 Eh va Ok Sono due Un po' mh What the fuck What Raga mi sono caccato addosso Ho flashato ma Ma dov'era Oh vi posso dire che non so chi cacchio ha ucciso Chat vi posso dire che io non so chi cacchio abbia ucciso Ma sinceramente ve lo dico eh Ma no tranquillamente Proprio come se fossimo amici eh Io non so chi ha ucciso Forse il fantasma formaggino C'è qualcuno che era in giro lì Non lo so Sinceramente però Dov'annà così Raga ma hanno sparato Ho fliccato a caso sparando Cioè ultra istinto si Era andato in ultra istinto mod Non so chat non so Ma comunque La partita la perdiamo Cioè perché ho vinto uno Uno verso quattro Uno contro quattro Ok ragazzi vedete Twitch con il reflex B Ultra istinto Ve l'ho detto Era la giocata pazza Rezi rimani fino alle 6 Ehm Ma quello sicuro Sì ma forse pure oltre Però non tutto su Fox Cioè su Rainbow Rainbow Facciamo questa Quindi per le 17.30 40 E la clip di TikTok Ce l'abbiamo Solo che io non ho il tempo Di editarle Servirebbe qualcuno Che mi editi le clip di TikTok Perché io non riesco Perché io non ho tempo Faccio 47 video al giorno Su YouTube Una live al giorno Su Twitch Io non c'ho il tempo Però Va benissimo così Non ci lamentiamo È un lavoro che mi piace E vabbè 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 Allora Allora Certo giochiamo con il Giocare con il random Un po' meno Ce la tieni Sì best italiano Quello vabbè Tranquilazzi Serve l'italiano Allora Concentriamoci Ehm Che abbiamo qui Abbiamo uno qua Mi sa Un nuovo caricatore Ah raga Io lo sento Questo è proprio di me Oh mio dio Sì raga questi Vi fate una kill Almeno vi prego Droneiamo Rompiamo qualche cam Ma non c'è nessuno Ok Giù Qui non c'è niente Raga Ci sta nessuno Tutto pulito Vediamo se riusciamo A rompere qualcosa Minchia Cazzatissima Quello Eh Sa che c'è qualcuno Pure là Sa che c'è qualcuno Qui Panopin Stavo trollando Mi si è mosso Proprio alla fine Hai trovato una bomba Hai trovato una bomba Eto sono un operatore D'attacco Senti fessure rimasto Rimangono 15 secondi Ragazzi io penso di star giocando Contro la squadra del Del Bergamo Junior Non lo so Vi giro ragazzi Su tutti i platini Vi faccio rivedere Sembrano bronze Io non voglio offendere niente Però so platini Io non C'è senso Platino 2 C'è E quello è platino 2 C'è Platino 2 Platino 3 Platino 3 Oro 2 Vabbè lasciamo stare Ma C'è senso C'è E so platini Ora io non vorrei dire niente Sembrano veramente La squadra del Cinciana Junior And company Però Vabbè Senso Ok La squadra della gelateria sotto casa Sì Potrebbe essere quella Però io non Ciao user Come stai? Io bene C'è sto giocando bene Non è che per Dire a me che faccio cagare Non fosse Però Quest'ultimo qui Non si aspettava il mio push Ero un po' cagato addosso Non lo so Mi reporteranno tutti L'avranno già fatto Ma Oh Che vedevo di Ma che vedevo di Ciao Veganto Come va? Noi continuiamo Se butta niente Ragazzi Se butta niente Eee Non so dove Sinceramente murare Però Diciamo qua Dicavo Qua abbiamo fatto Rotation Qua abbiamo fatto Rotation No ne mettiamo Uno qua Uno nelle scale Qua C'ho un'altra impact Ma non so dove farla Eee Tutto bene Sì Eee Mettiamo una qua E possiamo stare in Eee In gas Mi stanno pushando Da giù Vediamo se qualcuno Ieri via da qua Noi arriviamo da qua Noi Rotation Qua l'abbiamo Cioè La verticalità L'abbiamo fatta Mi sa che Bricciano che esce Vedranno mai verticalità Secondo voi Cap cap Stay there Stay there One on me Geisha Dead Dosa Eh ragazzi La Glamour Vabbè ci sta Ce ne siamo fatti due Va bene Eee Però Mi hanno ucciso Eee Non lo so Se è stata a word Sapete Il fatto che Abbia ucciso Osa Però Farmi uccidere Dalla Glamour Eee Che ho sbagliato O che non ho sbagliato Eee One on ping One on ping Yana On drum La Gapkans Ha fatto una kill Ottimo L'ultimo attaccante Rimasto in vita Era Yana Sì Stiamo qua Hai sbagliato Mmm Speriamo Dai Eh non mi aspettavo La Glamour Sinceramente Vediamo Non la vedo Eh perché Eh è dentro al site Speriamo Nice Good job Buono raga 3-1 Dai Ottimo Perfetto Forza magica Dai Allora Eee Dove andiamo ora Eee Exhibition In exhibition Alla fine nessun danno Sì alla fine Ce l'hanno Ce l'hanno fatto Perché diciamo Che neanche i tuoi mate Sono così No infatti Era per quello Eee Chi prendiamo Non prende Capcan Quindi io riprendo Capcan Questi le prendono Le Capcan Raga Questi 100-100 Prendono Capcan Quindi va bene Eee Ne mettiamo Una qua Uno qua Poi ne mettiamo Una qua Così Facciamo gli danni Facciamo gli danni Così Una qua Tutte in giro E una tipo Mettiamola qua Così dai Perfetto No no Vabbè Lasciamola così Potrebbe Potrebbe Allora Siamo qua Entrano da Gensha Da Gensha Potrebbero entrare Qual è il tuo main Non c'ho un main Sai mi piace Twitch Ma La uso poco Perché Perché non è rinforzato Gensha Se l'ha rinforzato L'altro mur Cazzola Hanno trovato Una bomba Sapete cosa fare Ok C'ho 76 di ping Quasi ammessi a cam Ah Sono al centrale Questi pushano dal centrale Pushano da qua Ho missato La testa Ho missato La testa Gli ho levato 30 Mannaggia Perché l'hai fatto Peccato ragazzi Ciao Spaggio Come va Ciao Giovanni Come va Buono Che le si è presa Era quella sledge C'era un altro Eh son morto Si mi fa molto piacere Che palle Nice try Nice try Ok Vedete quello sledge Che ha fatto Ha fatto vincere il round Uccidendomi Quello sledge Che no Io ho preso la testa Allora cambiamo Prendo frost E metto le frost Sopra le scale Che secondo me sono così rincoglioniti Che le prendono Metto una sulla scala Uno sull'altra E la terza Ora vediamo Secondo me questi sono così rincoglioniti Che le prendono Qua si possono ottenere Quei pacchetti Già riusciti da poco Mi sa che devi comprarli E basta Eeeh Allora Ne mettiamo Raga Prendiamo l'armor Subito Se me la fa prendere E ne mettiamo Spero di non farmi Sgamare Ne mettiamo Una qua Così Una qua In questa scala Così Perfetto E l'altra La mettiamo Qua così Così Vediamo Potrebbero Non Non farsi Sgamare Dai Levati Che vuoi Ciao Cromo Come va Vediamo In teoria Dovrebbero Essere Gucci Come procede Ma Poco fa Un cheater Ah Ricarico Novo caricatore Mi faccio Pusciare Che prende La trappola Quello Dai Come non Raga Però doveva morire Sinceramente Dai Che cacchio Dimmi come non sei morto Ma io ho sparato Io gli ho sparato Sinceramente Gli ho sparato Quanti P.I.U. Sì 800 Secondo me Doveva morire Speriamo Speriamo prendono Le trappole In teoria Ci ho messo Ebbene Pure te Fagli Vole La fete Ma ero Vedi L'avevo preso Comunque Non è partito Il colpo Col server Vedi che L'avevo preso Quando sono sceso Io spero Prendono le trappole Ragazzi Ve l'ho detto Allora Una trappola C'è ancora Quindi potrebbero Ancora prenderla Le altre trappole Penso Ancora Di sì Ok Ti prego Prendi la trappola Allora È sotto Potrebbe prendere La trappola No Non la prende Ragazzi Secondo me È già sotto Chill Chill Three times Te prego Ti si Pink 4 Nice Good job GG Buono Let's go Buono Buono Ragazzi Per 4 a 2 Bello GG Let's go Let's go Buono Bella partita Si gode tantissimo Contro questo bel gruppo Da 5 contro Let's go Buono Quanto abbiamo preso Ieri con il mio team Abbiamo avuto una call Con una org Interessante Più 43 Ottimo Perché comunque Erano pure Platini 2 Tutto Ci sta GG Mi dai pure il pacchetto Siamo tutti felici Fuck Comunque GG GG out B �etaan Bebel B B Bebel Tapi Di B B B Grazie a tutti.